L'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo ASR, diretta da Pierluigi Cosenza, traccia il bilancio delle attività svolte dal periodo di ottobre 2020 ad oggi. Sono stati istituiti nove percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, cosiddetti PDTA, e linee di indirizzo regionale per affrontare tutte le patologie più gravi oltre al Covid. Questa patologia Covid in realtà ha rallentato all'inizio l'afflusso negli ospedali degli utenti, perché se voi vi ricordate nelle prime ondate i focolai erano proprio dentro gli ospedali e quindi c'è una paura. Per cui adesso si stanno vedendo delle patologie croniche che si sono abbastanza gravate. Noi abbiamo sviluppato in maniera esponenziale il sistema dei PDTA, che sono i percorsi diagnostici terapeutici, e li abbiamo messi pure come risultati ottenuti da direttori generali. Con questi percorsi noi stabiliamo delle reti e delle linee per cui tutti gli utenti della regione Abruzzo possano avere uniformi livelli di assistenza. I PDTA sono quindi considerati gli strumenti di governo clinico che rendono operative le reti cliniche, delineando rispetto ad una patologia, ad un problema, il miglior percorso praticabile, ovvero la migliore sequenza temporale e spaziale possibile delle attività diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali, che contraddistinguono in questo momento la regione Abruzzo, come sottolinea l'assessore alla salute Nicoletta Verì. In breve tempo abbiamo riorganizzato tutto il nostro sistema sanitario regionale, aumentando i posti letto, creando possibilità di ricovero sia nelle terapie intensive che nell'area medica, ma soprattutto dando quell'attenzione importante per quanto riguarda l'attività del territorio. Abbiamo istituito le USCA, dove ogni paziente ha trovato la giusta e adeguata sistemazione. Parallelamente al momento dell'emergenza abbiamo portato avanti anche un'attività di programmazione e di organizzazione. Di programmazione riguardo, siamo la prima regione che ha portato avanti notevoli e importanti risultati, sia da un punto di vista della telemedicina. Abbiamo presentato un piano per quanto riguarda l'attività sanitaria digitale, quindi un'innovazione importante. Si aspettava da diversi anni questa innovazione.